Musica Se si vuole che sotto un testo di una mail appaia automaticamente un testo prestabilito, per esempio il proprio nome con l'indirizzo, oppure dei saluti particolari, un logo o quant'altro, occorre utilizzare lo strumento della firma. Vediamo io cosa intendo per strumento di firma. Messaggio nuovo, scriviamo il nostro testo e applichiamo la firma. Inserisci, firma ed ecco la firma. È collegata al sito e ho scritto una frase qualsiasi. Potete scrivere visita il mio sito, il mio blog, il mio forum, oppure se si tratta di un logo aziendale metterete l'indirizzo, il telefono, come arrivarci e quant'altro. Questa paginetta è solo dimostrativa, la chiudiamo perché non serve più. Vediamo invece come ho fatto a preparare questa firma. Abbiamo bisogno di una GIF che ho preparato precedentemente, eccola qui. È di un codice. Questo codice lo troverete salvato cliccando nella descrizione del video tutorial. ve lo faccio trovare nella paginetta del mio sito. Andiamo ad analizzarlo. Questo è il collegamento del sito. Toglierete il mio e mettere il vostro, quello del blog, del forum, quello che sarà. Poi, qui invece, c'è l'url della GIF caricato su un server hosting. Dopo vi faccio vedere pure come l'ho caricato. L'importante è salvare questo file, adesso che lo andiamo a chiudere, in estensione HTML. Quindi, file, salva con nome, ci diamo un nome, chiamiamolo firma 3 perché ne ho già un altro. Quindi, a questo punto, metteremo .html e lo chiudiamo. Chiudiamo. Cosa è successo? Abbiamo giusto il file documento e si è aperto un altro file in estensione HTML. Adesso passiamo alla posta per preparare l'account. Quindi, posta, strumento, opzioni, firma, aggiungi una nuova firma, nuova. Siccome è un file, dobbiamo mettere la spunta su file, sfogliare il nostro file e cercare quel foglio HTML. La cartella è questa, solo che non si visualizza per adesso. Però, se noi clicchiamo su questa freccetta nera e poi su tutti i file, a questo punto nella cartella vengono fuori i file che compone la cartella in tutti i formati. Quindi, apriamo il nostro foglio, applica e ok. Andiamo a impostare il messaggio nuovo, vediamo in pratica, con la prova del nuovo, se tutto è andato a buon fine. Quindi, inserisci, firma, questa volta abbiamo detto che dobbiamo impostare, l'abbiamo chiamata firma numero 2. Ecco la nostra GIF. Come abbiamo fatto a salvare sul server hosting? Vi faccio vedere. Questo è il server che uso io. In alternativa usarete il vostro, oppure vi faccio trovare nel foglietto anche il nome del server che uso io. Quindi sfoglia, cerchiamo la nostra GIF, eccola qui, e scriviamo il codice che ci viene dato per entrare a... Dunque abbiamo detto... Internet, rm, a, rt, a, k, i. Questo è l'url che dobbiamo prendere, vedete? Questo qui lo incolliamo. E poi, se ricordate bene, il foglio era questo. E questa è la parte dove andiamo a inserire il nostro url. Questo per la precisione. Cancellate questo e mettete il vostro. Questo è tutto. Grazie. 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 Grazie.